AQUILANI Palla che resta lì ancora pericolosamente poi Borcavalero Roncaglia e in qualche modo ma non in maniera sufficiente riesce a toccare il pallone Gomez cerca di aprire per Quadrado c'è anche Borcavalero il tiro di Quadrado respinto ancora Pisarro che voleva alzare per Babacara colpito malissimo il pallone Quadrado poi il tocco viene intercettato ma la palla è ancora lì pericolosamente il tiro di Aquilani la parata di Perin Palla buona per Aquilani in area Aquilani la conclusione para Perin si riprova ancora Edenilson, buon momento del Genoa, palla buona per Piniglia che si coordina Parte Borcavalero dalla bandierina, stacca Savic, non trova la palla, prova la conclusione la trova e come Marco Salonso corpo a corpo tra Quadrado e Roncaglia e c'è l'ammunizione per Roncaglia e la seconda Genoa in 10 inserimento di Marco Salonso che parte da dietro e poi la conclusione appena fuori palla retrata per Gonzalo Rodriguez cross verso Aquilani colpo di testo di Bernardoleschi e Perin ancora